È avvenuto sempre nello spazio allestito per il rally, parliamo della protesta per i mancati indennizi della regione di un agricoltore che vive in macchina dal 2013. Vediamo il servizio di Bebo Madeddu. Il motivo è che nel 2013 è venuta un'alluvione come è venuta in Romagna. I politici di Olbia mi fanno dormire per dieci anni in macchina, pur essendo malato con il diabete. Circa 400 mila euro di danni. Ho 50 referti medici dell'ospedale perché durante l'inverno mi si gonfiano le ginocchia. Dopo l'alluvione mi davano i buoni pasto, 100 euro al mese. Solo quello l'aiuto che mi ha dato il comune di Olbia. Io essendo muratore me la sono incostruita io in tempo di 48 anni. Hanno tombato il canale di via Imperia e l'acqua è cresciuta e hanno fatto le vie sopra. L'acqua è cresciuta di un metro e mezzo. Concessione di Lisia ce l'ho firmata dall'ingegnere Zanda. In più un'altra cosa, ho pagato la Buccalossi in ritardo perché non ce li avevo quei soldi. Poi l'ho pagata, ho pagato 13 mila euro a documenti in mano. Mio nonno, mio padre, otto figli siamo nati a casa. Nizi, tutti nati a Olbia. Io sono il vero olbiese. A me tu non mi puoi mettere sotto i piedi come voi. A parte che di Lisia, noi in casa mia una volta avevamo cinque muratori. Mio padre e quattro figli. Nizi io di Lisia me ne intendo molto più di te. E allora, e non chiudere i canali e fare le vie sopra. Il danno è stato lì. Capisci? Paga i danni, paga i danni, Nizi, che io sto molto male.